La prima settimana si è conclusa, la magia della scuola ha ispirato le menti e riscaldato i cuori dei nostri giovani apprendisti. Adesso la strada è tracciata, ma la magia è tanto più bella quanto piena di colpi di scena. Insomma, fa piuttosto male, eh? Eh sì. Se tu ci litighi? Lascia stare, lascia stare e me lo verrà a dire. Non lasci due ragazzi discutere per te mentre tu ti andai resti lì a ridere. Si sta dimostrando un'altra persona. Luca, proprio tutto per infastidire gli altri, tutto quello che fa ha un obiettivo. Ma guarda, se questo mi vede, deve venire a me a dire a me che non so fare un cazzo. Farmi mettere i piedi in testa da una che non sa manco cos'è un mazzo di carta e non c'ho tanta voglia. I ragazzi non sanno che una scarica di energia sta per scombinare tutti gli equilibri appena creati. Mi si è palesato davanti agli occhi questo enorme castello. E poi mi ha detto, boh, fatta aaaah, morteaci. Bella! Magie c'è! Bella raga! Che ci fanno? Eh ragazzi, così proprio non le sopporto, non riesco a digerirle. Madonna! Bravo! No, non sono affatto gelosa, anche perché sono delle oche. Spieghi come facciano male se non le conosco. Eh, neanche mai mi conoscevi e dopo tre ore mi sono benissimo. Conoscenti, amici, ci si sente, crush, fidanzati. Le fantasmagorie della nostra scuola non finiscono qui. La prossima settimana continueranno a sorprenderci. Spacca tutto! E ricordate sempre che la magia ha bisogno del vostro stupore. Sim sala bimba! Grazie a tutti! Grazie a tutti